Sabato prossimo si va a Roma contro l'Olimpus Solgiata, una delle vere reali candidate alla vittoria del campionato. Che clima ti aspetta e soprattutto che tipo di partita ti aspetti? Innanzitutto andiamo ad affrontare una squadra che punta a vincere il campionato, però noi la rispettiamo perché comunque hanno giocato di un certo potenziale. E quindi andiamo ad affrontarli come stiamo affrontando tutte queste partite, rispettandoli ma senza avere paura di nessuno. Un pensierino alla finalità lo fate voi? Sì è normale che lo facciamo, però noi non dobbiamo pensare a questo obiettivo, noi andiamo avanti come dice sempre il mister partita dopo partita proprio per mantenere alta la concentrazione. E poi vediamo alla fine del girone di andata se questo sogno si avvera.